E' la vigilia di Messina a Fidelis, la vigilia di una sfida che in questa fase della stagione può valere davvero tanto in classifica per entrambe le squadre, appaiate a quota 12 in graduatoria. Al San Filippo sarà sfida verità, la prima di un trittico di gare per i biancazzurri di Ginestra in cui ci sarà da affrontare formazioni che lottano per la permanenza nella categoria. La Fidelis ci arriva dopo il bel successo di mercoledì in Coppa a cui fa da contraltare la brutta sconfitta in campionato contro il Bari. C'è stato poco tempo per prepararla perché comunque venivamo dalla partita di mercoledì, abbiamo dovuto dare qualche giorno di riposo anche a chi ha giocato e poi buttarsi subito sulla partita. L'abbiamo preparata in modo secondo me positivo, dipende molto da quello che vorremmo fare con l'approccio perché comunque come dicevi tu è una partita importante per tutte e due le squadre e quindi sappiamo che dobbiamo avere un approccio importante perché altrimenti faremo fatico contro una squadra aggressiva, cattiva, classica squadra di categoria e se non faremo neanche noi questo faremo fatica. Serve continuità di prestazioni, risultati e approccio sono queste le richieste di Ciro Ginestra. Un approccio importante su una gara importante può fare la differenza perché comunque abbiamo dei giocatori di qualità come ne hanno anche le altre squadre, però io credo molto in questa squadra quindi sicuramente l'approccio può dare un'origine a una partita importante quindi sicuramente quello sarà la base di tutto. Il tecnico andriese da ieri potrà contare su di una freccia in più nel suo arco, l'arrivo di Matteo Legittimo in difesa ha colmato un ruolo in cui la Fidelis era piuttosto carente. Andiamo a mettere dentro un giocatore importante, strutturato, sinistro, che sta a giocare a calcio e in più viene dagli ultimi tre anni di B, ha fatto 100 partiti in Serie B quindi è un giocatore che sicuramente ci dà qualcosa anche sotto il profilo mentale, sotto il profilo della personalità quindi è un giocatore che veramente ci serviva e sicuramente ci darà una mano. Mancheranno sicuramente Bordim, Venge e Zampano, ancora le prese con i loro rispettivi infortuni e non ci sarà neanche l'ex del match, cioè Sergio Sabatino, squalificato, in odore però di partenza dalla Fidelis. Ci saranno invece Alcibia De Tulli, quasi del tutto recuperati, mentre sarà a disposizione anche l'ultimo arrivato legittimo, proprio la difesa, il reparto in cui saranno importanti le scelte di Ciro Ginestra. Inizio match previsto alle 14.30, tre legare a Messina disputate nella storia per i Biancazzurri e tre risultati diversi con un pari e un successo a testa per le due squadre.